Elimina batteri fecali, colibatteri, batteri, batteri febbre tifoidea, salmonella, colera, cloro, fluoro e iodio, TICE, THM, PCB, atrazina, cloroforni, idrocarburi, clorati, polveri radioattive. Buonasera viaggiatori, intanto bentornati in salotto da ringhi, ogni tanto siamo di nuovo qui. Stasera ragazzi vi parlo di una cosa, mettetevi comodi perché è veramente figa. Allora stiamo parlando prima di tutto di un filtro potabilizzatore per l'acqua, quindi è una cosa veramente molto fondamentale e molto comoda nei nostri camper. In questo caso parliamo di un'azienda, prima di tutto italiana, la ITS, che fa questo kit che si chiama Seagal 4. Parliamo di un filtro che non ha bisogno di elettricità o altro, semplicemente effettua la filtrazione dell'acqua che passa attraverso il sistema filtrante. Tanti vantaggi e io non ho sinceramente ancora trovato svantaggi, ma dopo andiamo a vedere anche l'installazione e tutto il resto. La cosa che mi è veramente piaciuta tanto di questo kit, fondamentalmente abbiamo, prima di tutto vi dico una cosa fondamentale, si riesce ad adattare a qualunque sistema idrico presente nei nostri camper. Che noi abbiamo il vecchio tubo retato, il tubo retato siliconico, il John Guest con attacchi particolari, riusciamo ad adattarlo, perché chiaramente esistono gli adattatori. Normalmente questi vengono dotati con il passo tre ottavi, quindi qualunque tipo di rubinetto da casa può essere installato. Anche se questo kit, ragazzi, ha il suo rubinetto dedicato, ma ne andiamo a parlare fra pochino. Mi è veramente piaciuto tanto per un discorso. Questo è quanto mi dice l'azienda, ragazzi, quindi per fortuna faremo una live, probabilmente subito dopo questo video. Quindi questo lo stiamo vedendo di giovedì e noi andremo a fare la live lunedì con i tecnici, perché mi hanno riempito di informazioni. Non ci ho capito niente, sono sincero. Ha cominciato a fare battericida, batteriostatica, delle cose. No, 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 lascia stare tutto, facciamoglielo a dire a loro, perché io sicuramente dico delle minchiate, minimo. La cosa importante, ragazzi, fondamentale, che deve, diciamo, interessare a noi viaggiatori, è che di fatto non mi importa più la qualità del tipo di acqua che io vado a inserire all'interno della mia cisterna, quindi dei miei, chiamiamoli, 100 litri di acqua all'interno del camper. Perché? Perché ci sarà una linea dedicata per la potabilizzazione, quindi tutta l'acqua che attraversa quel filtro ne esce potabile. Quindi, ragazzi, è veramente tanta roba. Immaginatevi che scordate completamente di caricare l'acqua, l'acqua intesa come i cartoni delle bottiglie, quindi è veramente un qualcosa di fotonico, secondo me. Parliamo un attimo di due caratteristiche tecniche, quel poco che vi posso dire io. Allora, intanto abbiamo una cartuccia che è un sistema filtrante che loro mi assicurano tra i 4.000 e i 5.000 litri di acqua potabilizzata, quindi capite a me che parliamo di veramente tanta, tanta autonomia. Il kit in sé, mi pare, vado nello specifico, che costi intorno ai 350 euro, kit compreso, compreso del rubinetto e del suo filtro. Il filtro di ricambio che devo andare a comprare costa all'incirca dai 180 ai 200 euro. Vi do qualche spazio perché non vorrei sbagliarmi. Questa vita, ragazzi, ha un vantaggio, esiste sul mercato da una vita. Tenete conto che addirittura anni fa avevano fornito il nostro stesso esercito con i filtri potabilizzatore in ambito militare, quindi parliamo di cose veramente, veramente serie e importanti. Vi rimando al prossimo della live, ne parleremo a fine del video, per le domande tecniche, quindi cominciate a scrivermi. E andiamo a passare, ad esempio, in questo caso, all'installazione. Ora l'abbiamo fatta, chiaramente, su ringhio, perché è uno dei nostri mezzi, quindi è un test vivente, noi dobbiamo installare delle cose. Questo kit, ragazzi, è fatto veramente bene ed è già dotato per tutti gli attacchi base che si potrebbero avere in un'abitazione. Quindi viene fornito con i due flessibili, attacco tre ottavi, ingresso del filtro, uscita al rubinetto e ingresso verso la mandata. Vi faccio vedere come l'abbiamo installato all'interno di ringhio e cosa abbiamo ottenuto, perché è veramente tanta roba. Un secondo che vi sposto. Cosa importante, ragazzi, prima del pippone finale. Dove si può trovare questo filtro? È una cosa molto interessante. Allora, prima di tutto, l'azienda non vende direttamente ai privati perché fornisce le altre grandi aziende. In questo caso siamo riusciti ad attivare una linea in modo che se uno vuole comprarsi il kit e montarselo a casa, deve un attimino lavorare con raccordi e non raccordi, lo può fare. Vi lascio sotto un link in descrizione in cui, inserendo semplicemente il codice Arcadia, è possibile l'acquisto di questo filtro. Seconda cosa, ragazzi, ci saranno le officine dedicate. Immaginate un po', la nostra è la prima. Quindi anche la prima di installazione lo avrete qui da noi, direttamente, all'Arcadia Garage Lab. Quindi se avete bisogno di installare questo filtro e non avete la minima idea di quali siano i passi, i raccordi, le cose per il vostro impianto, lo potremo fare direttamente qui. Ok, passiamo un attimo alle ultime considerazioni. Ho dovuto tirare le tendine, ragazzi, perché il sole oggi è implacabile. Questo, ragazzi, è il nostro rubinetto che ci esce, vedete anche qui, dell'ATS che ci esce già installato. Mentre questo è il vecchio lavandino normale di ringhio dove io apro e vado a ottenere la mia acqua. Ma anche in questo caso, anche se io faccio questo, ottengo sempre dell'acqua. Con attenzione, questa che è la prima posizione è la seconda che è sempre aperto, quindi riesco a riempire. La cosa importante è quello che c'è qui sotto. Il filtro, ragazzi, è questo qui. Quindi questo è il nostro SIGA4 e come vedete prendo la mandata da lì sopra. Noi abbiamo fatto uno sdoppio, perché? Perché Rindio ha rifatto completamente tutto l'impianto idrico. Ne andremo a parlare con calma, sto cercando un punto dove mi vedete meglio. Ne andremo a parlare con calma, perché è un sistema idrico un pochino più complesso e meno convenzionale dei camper soliti. Qui c'è un ingresso, uno sdoppio di due serbatoi, un filtro che trattiene tutte le impurità, quindi per le particelle prima della pompa, ingresso alla pompa, uscita dalla pompa a fase dell'espansione e poi resta l'impianto. Quindi questo ci permette anche di non rovinare la pompa con i sedimenti all'interno del serbatoio. Tornando a questo discorso, voi vedete, ragazzi, che qui abbiamo il filtro, quindi ci sono i nostri passi tre ottavi che vanno ad agganciarci al rubinetto. Lì c'è lo sdoppio, quindi l'arrivo dell'acqua fredda, sdoppio sul rubinetto normale e sdoppio per l'ingresso del filtro. Quindi in sé, ragazzi, l'installazione prende veramente via poco tempo, poca roba. Il più sono gli innesti, quindi dipende dal tipo di impianto che avete. Se avete un impianto con i tubi John Guest ci vanno riduttori particolari, se avete un impianto con il tubo retato dovrete fare dei passaggi dal mezzo pollice al tre ottavi. Ci sono però, il vantaggio, è che come vi dicevo, ci sono tutti i tipi di raccordi, raccorderie, per poter inserirlo all'interno del camper. Il risultato che noi abbiamo, come avete visto, è esattamente questo. La stessa linea dell'acqua, quindi io vado ad aprire la mia acqua fredda, normalissima, oppure vado ad aprire l'acqua potabilizzata. Quindi questa è una cosa molto interessante. Ho un rubinetto proprio a parte. Questa è una cosa, vi riappoggio, scusate, in cucina. Questa è una cosa che a me personalmente piace veramente tanto, perché di fatto io sono molto certo che del tipo di utilizzo, del tipo di consumo dell'acqua potabile che ho in camper. Perché io potrei anche mettere questo filtro potabilizzatore a monte, cioè a monte di tutto, uscito dalla pompa dell'acqua filtro. Ok? Però di fatto sprecherei tantissimo, perché quanta di quest'acqua diventa effettivamente potabile, quanta magari è per l'uso sanitario. Noi che insomma ci teniamo un pochino al risparmio, io mi monto una linea dedicata direttamente, in questo caso l'ho fatto nel lavello della cucina, ma potrei averlo anche nel lavello del bagno, e sono certo che quella rubinetto mi richiama sempre e solo acqua potabilizzata. Quindi ci devo fare il tè, la tisana, la pasta, berla semplicemente, fighissimo, è già pronto, è già fatto. Altra cosa importante che è da aggiungere a questo tipo di discorso fatto è che dovreste un attimino vedere più in grande il concetto del perché mi porto un filtro potabilizzatore in camper. Dividiamo le categorie in due. Allora, il viaggiatore, il viaggiatore è quello che magari fa tanti chilometri, stavia anche mesi, è una cosa comoda perché io non ho sempre a disposizione un Walmart o il classico supermercato dove mi compro i cartoni dell'acqua. E tenete conto anche che se mi comprate i cartoni dell'acqua in regioni molto distanti da noi, l'acqua potabilizzata che hanno su non è la stessa che abbiamo noi. Quindi è leggermente diversa. Mentre invece, in questo caso, io sono sicuro che questo filtro mi chiuderà tutte le proprietà dell'acqua negative. Vi do una lettura perché non ne esco più. Allora, elimina, ve lo leggo, è cito testualmente, non si chiesta questa cosa. Elimina batteri fecali, colibatteri, batteri, batteri febbre tifoidea, salmonella, colera, cloro, fluoro e iodio, TCE, THM, PCB, atrazina, cloroformi, idrocarburi, clorati, polveri radioattive, pesticidi, insetticidi, erbicidi, fertilizzanti, fenoli, genet... Insomma, non lo so, c'è ancora un listone così, però per dirvi che chiaramente parliamo di materiale veramente fatto bene, è molto serio. Pensate semplicemente che il contenitore che contiene il filbro è in 316 IG, quindi comunque è una lega di acciaio chirurgico. Parliamo di veramente robine, fatte bene. Tornando al discorso iniziale, ragazzi, già dividiamo il viaggiatore che mi sta via dei mesi, un filtro potabilizzatore del genere, gli è fondamentale perché io potrei caricare l'acqua da un torrente, rendetevi conto questa cosa, cioè pensate che l'azienda, ora ne parleremo meglio con la live, così gli farei tutte le domande dedicate, l'azienda quando fanno i test hanno preso l'acqua dall'arno, ok, dall'arno, top potabilizzata, tieni, bevi, fantastico, con tanto di schede di valutazione per biochimico, insomma, le filtra, non lo so come si dice, e l'altra cosa invece è anche il viaggiatore occasionale o magari chi usa meno il camper del solito, magari il classico fine settimana, avere comunque un punto di ricarica all'interno del camper con la mia acqua potabilizzata, secondo me, ragazzi, andando con comportamenti un po' particolari, beh, io sinceramente sono stato molto contento di poterlo inserire all'interno di ringhio che diventa sempre più un piccolo bunker mobile, lo sapete, ci ho fatto anche il video, un piccolo bunker mobile completamente autonomo, come in questo caso, tornati da Parma, è ancora qua fuori, la sua batteria al 100%, boiler elettrico, frigo acceso, quindi noi siamo comodi. Ragazzi, spero vi siano piaciute queste informazioni e soprattutto stuzzicate un pochino come dire, la curiosità, ne andremo a parlare direttamente lunedì alle 21 in live con i tecnici dell'ITS a cui segnatevi tutte le domande perché questa, secondo me, è veramente una bella svolta, è una cosa in camper che ci aiuta veramente tanto la qualità della vita. Beh, spero di avervi stuzzicato la fantasia e come dire, ci vediamo in live ragazzi a lunedì. a lunedì.